Il maltempo continua a colpire il nostro territorio con le strade che si tramutano in torrenti a causa della pioggia. Un'altra bomba d'acqua piovuta dal cielo durante la notte ha provocato danni nelle zone dell'entroterra a Pesarise, con smottamenti e fango soprattutto a Candelara, Santa Maria dell'Arzilla, Novilara e Trebbia Antico, dove è caduto anche qualche ramo sulla carreggiata stradale. I problemi maggiori si sono verificati nella strada provinciale 32 a Santa Maria dell'Arzilla, invasa da una quantità innumerevole di fango e ghiaia sull'asfalto, con allagamenti e un principio di frana a valle, tanto da rendere necessario il transito per alcune ore a senso unico alternato. Qui gli uomini della provincia, assieme alle ditte specializzate, vigili del fuoco, polizia provinciale, carabinieri di Pesaro e Monbaroccio, hanno lavorato senza sosta dalle prime ore del mattino per permettere il ripristino della viabilità. La strada è stata più volte ripulita per il continuo verificarsi di bombe d'acqua localizzate su quella zona. Grossi disagi anche a Candelara, dove la strada provinciale 60 questa mattina è rimasta chiusa al traffico per due ore a causa della presenza di una frana sul tratto iniziale del Trebbio della sconfitta. Solo grazie all'intervento degli uomini della provincia, che hanno lavorato sul posto per diverse ore, una volta rimosse piante e terra dalla carreggiata, il tratto è stato riaperto alla circolazione. Altri interventi per allagamenti hanno riguardato nella serata di martedì le strade provinciali 34 Colbordolo, la 73 Pontevecchio e la 45 Carignano. Quello che si è abbattuto questa notte su Pesaro e zone limitrofe è stato un temporale molto intenso, dalle 3.30 alle 5.30 sono caduti oltre 75 mm di pioggia. Ed è bene continuare a prestare la massima attenzione perché l'allerta meteo della protezione civile durerà fino alla mezzanotte di oggi.